E invece i freni qui li ho usati eccome. L'asino, ma è chiaro. Cosa pensavate? Con gli occhi neri e nella tua bocca da baciare, girano le stelle nella notte e io ti penso forte, forte, forte e ti vorrei. A tutti i fornitori si prega di parcheggiare i camion chiusi e di andare a piedi a presentare i papieren e i documenti. Ma vi assicuro che siamo in Italia, ecco. Nel parco del fiume Olio oggi strane frequentazioni. Noi sono in Italia, non sono in Italia, non sono in Italia, non sono in Italia. Aspettatemi! Colorito, colorato, folcloristico, benvenuto. Non mi hanno aspettato. Lì raggiungerò a Paratico. Gli amici invece una mano me la danno a salire. Andiamo a mangiare col nostro treno. Gli amici. Sì. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco il ristorante. Grazie. Grazie. Anche le locomotive mangiano. Ecco, le carrozze, la stradina a fondo chiuso e la loco parcheggiata. Codita la locomotiva, ora è finalmente il turno per gli umani. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Di fronte a noi, Fossio, suggestiva frazione di Sarnico. Una raccolta chiesetta dedicata alla Madonna, un gruppo di vecchie abitazioni, un mulino seicentesco, fanno da sfondo alla diga che entrò in funzione nel 1933. Un tempo a Fossio, e parlo di quattro secoli o solo, erano fucine e si fondeva il ferro. Oggi è una cartolina. Dopo giorni, ora la Talida. Sì, l'ha incisi anche lei. Viva la papà, col popopopopopopopodo, viva la papà, che è un capopopopopopo lavoro, viva la papà, col popopopopopopodo. Quattro passi dopo quattro piatti. Tradotto, mi faccio una camminata post-inogastronomica. Ecco. E come sempre, questa è solo una breve sintesi del video girato quel giorno. L'originale dura una mezz'oretta, solo in cucina. E ora mi alzo sui pedali, come quando ero bambino. Dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino. E mio nonno mi aspettava, senza dire una parola. Perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. E che spasso si piglia andando una giornata nella natura, con un treno a vapore intendiamoci. E ora mi alzo sui pedali, come quando ero bambino. Dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino. E mio nonno mi aspettava, senza dire una parola. Perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica. Mi rialzo sui pedali, come quando ero bambino.